Exoratics, oggi sono qui a presentarvi questo nuovo arrivo, si tratta di questa Ford Fiesta ST-Line immatricolata nel 2019 e ha percorso solamente 69.000 km motorizzazione benzina da 100 CV, come dicevo appunto allestimento ST-Line che la rende molto sportiva come i cerchi in lega da 17 pollici, compatta anche nelle dimensioni perché abbiamo una lunghezza di 4 metri e una larghezza di 1,74 m passando invece alla parte posteriore troviamo i sensori di parcheggio e il bagagliaio molto capiente per il segmento di auto infatti abbiamo 300 litri di capienza, abbattendo i sedili arriviamo anche a 1000 passando agli interni nella parte posteriore troviamo questi sedili in stoffa con attacchi Isofix in entrambi i lati vengono ripresi i colori della carrozzeria esterna e dalle cuciture dei sedili molto spazioso anche l'interno come potete vedere ci stanno tranquillamente le gambe e anche la testa c'è spazio per tutti diciamo passando invece alla parte anteriore troviamo il cambio manuale a 6 rapporti climatizzatore automatico accensione con pulsante start and stop comandi al volante, molto pratici per la guida sensori di luci e qui nella parte frontale troviamo il display touchscreen dove possiamo collegare il nostro smartphone per collegare sia via bluetooth oppure tramite android auto o apple carplay il nostro telefono vi ricordo che potrete trovare ulteriori informazioni sul nostro sito ratix.com io vi saluto e ci vediamo al prossimo arrivo ciao ciao ciao